Scusami, messaggino Ma ancora? Allora, ieri è arrivato quello del gossip Oggi siamo al calcio, io non li ho attivati E secondo me me li fanno pure pagare Beh, buongiorno, certo che si pagano Tra l'altro non sei mica la prima persona È successa un sacco di gente, sta cosa No, ma stiamo scherzando? Cioè, io non li voglio pagare Rivoglio i soldi indietro perché, scusa, è un mio diritto Se io non l'ho attivato non capisco perché Mi devono addebitare i soldi Giorgia chiama Io faccio un casino perché, cioè, non è possibile Rivogli i miei soldi, è una questione di diritto Ma scusa Chiama e disattiva Certo, dovrò far così Grazie a tutti